ciao a tutti amici benvenuti su questo nuovo video continuiamo la nostra avventura e oggi ragazzi è un giorno molto importante perché abbiamo praticamente rotto in coma da questi grandi stronzi avevano osato toglierci il patrio e un'aggressione ma ho sfruttato per prenderci i nostri possedimenti più importanti però noi abbiamo bisogno di qualche truppa che vada qui perché la situazione è un po' grave perché comunque in tutto ciò abbiamo comunque fare molta attenzione vuol dire che ho sprecato va bene vabbè ma loro non entri in guerra con me no? non penso ma facciamo manita di training per i nostri cani facciamo fabrication laboratori per fare poi le fabbriche che fanno i circuiti che vuol dire tattica preferita ma non ci sono ma in tutto ciò io devo fare questo ok portiamo di nuovo un esistente target meno 5% la prima di missione sigma ha preso una medaglia molto bene continuiamo fino a quando possiamo tu organizzazione per forza organizzazione poi tu ti prendi max no che max management sap me con smax un cazzo si chiama tu due eeeh quattro medaglie c'ha questo aspettiamo un po' no va bene così i comuni sono abbastanza addestrati quello che si deve fare adesso è praticamente un dispatch di guanamingos a Calgary che è questo qui ho scelto ben in Denmark dopo che avrà aliens ok questi anini division attack meno 4% superficie insieme a noi lo vedete quindi adesso signore io attacco intanto salvo perché non voglio che crash faccio salvataggio su questo e faccio salvataggio pure su un secondo perché boh lo faccio questo mica è in guerra no ok facciamoci attaccare un po' perfetto attacchiamo reattore nucleare no che cazzo lo metto bellissimo che avevo letto prima che era morto qualcuno stato di seboia ma che cazzo ioino qua che cazzo che è Quinted Rock che cos'è questo che sto vedendo qua cos'è tutto ciò no ma che è ma che cos'è che cos'è madonna mia ma che cazzo sto vedendo qua questo è il vivo vabbè io veramente non ho parole guarda il sergente granito se vuole fare una bella cosa attacchi qui stiamo investendo nel The New American Commonwealth che è importantissimo questo è un grandissimo alleato se gli diamo il tempo che serve abbiamo bisogno di full support quindi aumentiamo attaccate anche voi qua eh però eh ma porca ok logistic gombani fatta avanziamo allora se io riesco più di qua se io riesco più di qua ok se accade dai così un po' attaccate ok 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 perfetto perfetto dai così dai così dai così dai così c'è il police protector scusatemi voi attaccate questo stronzo e voi vi muovete qua perfetto attacchi questo stronzo no no capitano è caduta andiamo a prendere ok ok abbiamo salvato delle persone delle vite della caravana la caravanie bene molto bene molto 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 bene questo è tutto mio cioè devo via tutto io qua claims montana 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 tutto io e sia me canada mi odia perché il nuovo territorio cioè c'ho crema ah c'ho crema allora vediamo un po' cosa succede a granito gli mettiamo un idiota così si può rubare vivaggiamento nemico che alla fine la verità non è male tu sei buono quindi ti uso campione di virtù perché il mio in clave deve essere campione di virtù non deve fargli errori del passato perché sono stupido e quindi non voglio che sia stupido stupido in coma quindi vediamo l'ascenamento niente praticamente mi prendo dovrei avere in oro territorio e quindi per farciò dovremmo attaccare regno dei sistemi stupido qua ci possiamo chiedere e chiediamo e non ci dicono un cazzo boh meglio così a me in canada lo attaccheremo la prima faccio così faccio un master impact 1 ci sono approssimo ad essere annesso e quindi va bene così ok quindi io faccio questo e ragazzi il video finisce qua spero che il video vi sia piaciuto nel caso vi sia piaciuto mettendo che mi piace commentato noi ci vediamo sul prossimo video ciao ragazzi grazie a tutti